Sigarette, 20 poesie per smettere domani è uno spettacolo che unisce l'arte poetica a quella teatrale perché cercavamo un modo di presentare la poesia differente dai classici reading noi ci siamo conosciuti a un corso di lettura interpretativa tenuto da Federica e Barbara e io ho bisogno appunto di fare una presentazione e allora mi sono affidato a loro due e quella che poi era una semplice presentazione è stato proprio uno spettacolo teatrale e si può fare poesia anche in una maniera un po' più divertente e anche accattivante La poesia nasce come qualcosa davvero che viene incamerata dentro di sé e poi buttata fuori come una boccata di fumo e la sigaretta è la stessa cosa Sigarette, 20 poesie per smettere domani? Ce l'hai una sigaretta? Volevo sapere da voi se per voi la poesia crea dipendenza come la nicolina? Assolutamente sì e con questo spettacolo noi speriamo che le crei ancora di più che venga assorbita, gustata profondamente, rilasciata a quante più persone possibile Grazie 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 Grazie